Buongiorno, buonasera, Marco Pt. Breve reportage sulla mia dieta estiva, su questi mesi passati a smaltire il peso in eccesso. Mi sono fatto giugno e luglio in restrizione calorica piuttosto stretta e volevo parlarvi brevemente di come ho gestito la cosa. Allora, è andata bene, sono passato da 104 kg mollicci e flaccidi a 96 kg piuttosto qualitativi secondo i miei modesti standard natural, neanche bodybuilder perché non faccio bodybuilding, mi alleno con i pesi. Comunque ho perso 8 kg di lardo, sono sincero, 8 kg di lardo proprio. Ci voleva, è una cosa che ci voleva, andava fatta. Non è stato facile e già che sono qui volevo anche ringraziare il mio gentile pubblico per i 6.000 iscritti raggiunti da poco. Io mi rendo conto che seguire un canale come il mio non è facile. So di non avere il carisma trascinante di un Silvio Berlusconi, so di proporre un metodo di lavoro, di allenamento molto, molto eccentrico, molto di nicchia. A maggior ragione mi sento di ringraziare coloro che hanno avuto la pazienza e l'attenzione e anche la fiducia di seguirmi. Da oltre un anno che mi sono messo su YouTube a fare divulgazione e sinceramente dopo tutto quello che abbiamo passato quest'anno sono piuttosto sorpreso di come sono andate le cose. Il 2020 è stato penso un anno sull'orlo di una guerra civile con arresti domiciliari, Covid-19, ci mancava un'invasione aliena, un bel progetto Bluebeam ed eravamo tutti quanti a posto. Comunque that's it, tornando sul tecnico, non lasciatevi andare. Io in quarantena ero ridotto a una larva, sembrava un tricheco obeso, diabetico. Tirato da freno a mano. Bisogna farlo, non lasciatevi lusingare dai carichi, anche perché fare massa a tutti i costi, sempre e comunque dopo un po' non sortisce più nessun effetto. Prendete ogni tanto del tempo per fare il punto della situazione ed eventualmente fare marcia indietro e ripulirvi. Allora, cosa farò adesso? Non intendo ricominciare a mangiare come facevo in quarantena, ma anche se in realtà non ho mai avuto un grande appetito, è che muovendomi meno il bilancio calorico era abbastanza sproporzionato verso il positivo. Intendo, se ricominciare a mangiare, normalmente, cioè nutrirmi in modo sano, bilanciato, come si dovrebbe sempre fare, insomma. Ecco, quindi non ho mai creduto nei periodi di bulking, di cutting, quindi dieta ferrea e poi rubinetti aperti col cibo. Credo che userò una strategia molto più morbida, userò degli andamenti molto più blandi per riacquistare peso, poi riperderlo in futuro. Però, ragazzi, rendiamoci anche conto che mica sempre accade un lockdown nazionale, se non addirittura globale, da quanto riportavano i TG. Comunque l'importante è uscirne interi, ecco, tutto qui. Allora, controindicazioni sulla dieta, io in questi due mesi ho più che altro assunto carboidrati in stretta concomitanza con i workout. Il fatto è che io, allenandomi tutti i giorni, spesso, più volte al giorno, dovevo tenere piuttosto alti carboidrati, comunque, quindi l'immagrivento è stato molto graduale e come effetto positivo mi ha consentito di tenermi stretti. I muscoli, ecco, non ho avuto grossi deficit di forza, ho perso qualche chilo qua e là, prevalentemente sulle cosce, parlo di prestazioni intendo. Comunque sono contento, essendo natural è molto difficile evitare l'erosione del tessuto muscolare. Ringrazio anche coloro che hanno avuto la pazienza di guardare i miei video, quello delle trazioni alla sbarra, quello del clean and press, che hanno voluto gentilmente esprimere il loro parere su di me a livello estetico. Ripeto, io non sono un bodybuilder, non cerco espressamente l'estetica, però fa piacere avere un feedback, ecco, perché senza essere degli egomaniaci, avere un minimo di riferimento con gli altri esseri umani, avere un minimo di connessione, un minimo di comunicazione, è sempre una cosa buona, secondo me. Ringrazio anche i miei critici più feroci, perché è giusto anche fare i conti con la branca esigente del pubblico, con la branca più esigente del pubblico, più spietata, che non ha nessun problema a ficcare il coltello nella piaga e a rigirarlo. Stick it and twist it. Però, finché sono critiche sensate, ben vengano. Ricordo che mettevo qualche foto così, di esplorazione, ne aveva scoperta, venivo subito fucilato e allora facevo marcia indietro, quindi. Ci sta. What else? In restrizione calorica, quando i carboidrati sono piuttosto bassi, a livello cerebrale ci possono essere delle sconnessioni. Io ieri ho fatto un video in cui parlavo di forza e massa muscolare, ho detto Joule, anziché Newton, riferendomi alla forza, è arrivato un gentile utente che mi ha corretto al volo. Quindi, attenzione, quando fate una dieta piuttosto severa in termini di restrizione glucidica, sappiate a cosa andate incontro. Ecco, tutto qui. Tornando al discorso poi del mio canale, cercherò in futuro di alzare il livello di qualità espositiva. Magari potrò dotarmi di lavagnette, pennarelli, spugnette, cancellini. No, sto scherzando. No, intendo continuare su questa linea, mi piace il tipo di pubblico che mi segue. Mi rendo conto di non avere, ripeto, un metodo commerciale. Io mi rendo conto di proporre qualcosa di molto particolare. Ti tengo però anche a dire che, a mia discolpa, sono piuttosto capacino di programmare, di fare allenamenti, di impostare programmi anche un po' più morbidi, anche magari maggiormente fondati sul volume e sul riposo. Io sapevo anche programmare in monofrequenza. Prima di abbandonarla conosco varie sfumature, varie opzioni, varie soluzioni. Chiaro che per quella che è la mia esperienza e quella che è l'esperienza dei miei clienti, il mio metodo, quello sulla frequenza ossessiva e massimale quotidiani, è il più produttivo. Va chiaramente ammorbidito con dei kit antinfortunistici, cosa che peraltro faceva anche la nazionale bulgara. È un metodo abbastanza rischioso ai primi tempi, perché la tecnica deve essere sempre presente, soprattutto su stimoli reiterati, massimali. Però, io posso anche dire che negli ultimi 17 anni, infortuni non ne ho più subiti. Io ho avuto un singolo catastrofico trauma nel 2003. Poi da lì non ho più avuto grossi infortuni, insomma, ecco. Quindi, spero di continuare così, facendo gli scongiuri, toccando ferro. I miei clienti, che io sappia, non hanno mai avuto infortuni particolari. Io mi vanto di non aver mai dovuto usare la mia assicurazione antinfortunistica. Però adesso sto divagando. Questo era un video che voleva tirare un po' una somma sulla dieta, su come è andata, sul bilancio. Torno a dire, so di non essere un bodybuilder, so di avere una genetica che col bodybuilding non c'entra nulla. So di non essere neanche un fenomeno nell'alzare pesi. Io ho semplicemente fatto il meglio che potevo con quello che avevo. Forse il fatto di non essere particolarmente dotato mi ha sempre spinto, mi ha sempre costretto a cercare metodologie particolari, forse anche estreme. Quando sei all'angolo, o finisci giù, o reagisci, insomma. Quando sei costretto a inventarti qualcosa, devi veramente trovare soluzioni che le persone magari normali non arriverebbero a trovare. Come diceva Fabio Rizzo, la necessità affila l'ingegno, insomma, ecco. È veramente tutto. Quindi grazie ancora per le iscrizioni. Grazie di cuore. E buona dieta a tutti. Non abbiate paura di intraprendere questo percorso. Ogni tanto, staccare la spina è bene. Non diventate neanche fissati con la definizione estrema. Il corpo umano, quando va proprio in carestia, molla le zavorre. Quindi il tessuto più costoso, il tessuto muscolare, è il primo che viene lasciato andare. Ecco, è un sottile equilibrio. Bisogna sempre cercare di perdere grasso senza perdere muscolo. Solo dare quel contentino al corpo per impedirgli poi di impanicarsi e mollare i muscoli. È una cosa abbastanza macchinosa, abbastanza sofisticata. Ringrazio anche Pediatra Paola per qualche scambio di battute, scambio di vedute. Mi è stato molto, molto, molto gentile nel ragguagliarmi in merito alla gestione dei carboidrati. Basta, è veramente tutto. Un video pallosissimo come sempre. D'altronde, questo è anche il mio stile, a quanto sembra. Marco Pt, grazie per l'attenzione. Alla prossima.